Ogni paese del mondo in questo momento sta riformando l'istruzione pubblica. Ci sono due ragioni per questo. La prima di esse è economica. La seconda ragione è culturale. Ogni paese della terra sta cercando di capire come possiamo educare i nostri figli in modo da avere un senso di identità culturale, in modo da poter trasmettere le nostre radici culturali ai nostri giovani, pur essendo parte del processo di globalizzazione. Il problema è che i governi stanno cercando di andare incontro al futuro facendo quello che hanno fatto in passato e nello stesso modo in cui si stanno alienando milioni di ragazzi che non comprendono lo scopo di andare a scuola. Quando andavamo a scuola ci raccontavano una storia che se si è lavorato duramente e si è fatto bene e hai ottenuto una laurea avesse trovato un posto di lavoro. I nostri giovani non ci credono più e hanno ragione ovviamente. Il problema è che l'attuale sistema di istruzione è stato progettato e concepito e costruito per un'epoca diversa. Il sistema scolastico fu costruito su una serie di ipotesi sulla struttura sociale e se le presunte capacità. È stato guidato da ragioni economiche ma nella convinzione che fosse un modello intellettuale che era essenzialmente la visione illuministica che la vera intelligenza consisteva in certi tipi di ragionamenti e una conoscenza dei classici e questo è un gene inserito profondamente nella pubblica istruzione. Persone intelligenti e le persone non intelligenti e la conseguenza di ciò è che molte persone brillanti pensano di non esserlo perché sono giudicati contro questa particolare visione della mente. Così abbiamo due pilastri economico e intellettuale. Penso che questo modello abbia provocato il caos nella vita di molte persone. È stato vantaggioso per qualcuno ma non la maggior parte delle persone. Ora vedete una mappa delle domande di ADHD, deficit dell'attenzione in America, i nostri bambini stanno vivendo un periodo più stimolante ed intenso nella storia della terra. Sono assediati da informazioni e la loro attenzione viene catturata da tutte le piattaforme come computer, iphone, cartelloni pubblicitari, centinaia di canali televisivi e ora li stiamo penalizzando perché sono distratti. Per cosa? Roba noiosa, principalmente a scuola. Non mi sembra una coincidenza che i casi di ADHD, cioè deficit dell'attenzione, aumentino in parallelo con la crescita dei test standardizzati. Questi ragazzi vengono dati farmaci come Ritalin e Aderol e ogni sorta di cose, spesso farmaci molto pericolosi per farli concentrare e calmare. Credo che dovremmo andare esattamente nella direzione opposta. Questo è quello che voglio dire, di cambiare il modello. C'è stato un grande studio condotto di recente sul pensiero differente, è stato pubblicato qualche anno fa. Il pensiero differente non è esattamente la creatività, definiamo la creatività come il processo di avere idee originali che abbiano un valore. Il pensiero differente non è un sinonimo ma è una base essenziale per la creatività, è la capacità di vedere un sacco di possibili risposte a una domanda, un sacco di possibili modi di interpretare una domanda, a pensare cioè in modo non scontato, di non pensare solo in modo lineare o convergente per vedere risposte multiple, non una sola. Un tipo di esempio potrebbe essere di chiedere ai ragazzi quanti usi diversi si possono fare per una graffetta. La maggior parte delle persone potrebbero essere in grado di trovare 10 o 15 risposte, le persone che sono particolarmente portate potrebbero trovare 200 risposte, lo fanno dicendo anche ma la graffetta potrebbe essere alta 50 metri fatta di gomma più ma direbbero non si deve vedere una graffetta solo come la conosciamo. Ora sono stati fatti dei test per questo e li hanno consegnati a 1500 ragazzi in un libro intitolato punto di rottura e oltre. Nel test se uno aveva totalizzato oltre un certo livello verrebbe considerato un genio per pensiero originale. Chiaro? Sapete qual è la percentuale delle persone che hanno ottenuto un punteggio a livello di genio per il pensiero divergente su 1500 persone? 98 per cento. Tenete conto che erano bambini dell'asilo. Ritestati 8-10 anni il livello di genio era sceso al 30 per cento e qualche anno dopo l'età intorno ai 14-15 anni era scesa al 10 per cento. Sugli adulti questo test porta a un risultato del 2 per cento di idea originale. Ma questo dimostra due cose. La prima è che tutti noi abbiamo questa capacità fin dal piccoli e due che questa capacità si deteriora nel tempo per la maggior parte di noi. Sono successe un sacco di cose a questi ragazzi man mano che crescevano un sacco. Ma una delle cose più importanti che è successa loro è che sono diventati più istruiti. Hanno trascorso dieci anni a scuola dove gli viene detto non guardare, non copiare perché questo è varare. Questo non è perché gli insegnanti vogliono così, è solo che è perché succede così. È perché è nel DNA della formazione. Dobbiamo pensare in modo diverso riguardo le capacità umane. Dobbiamo superare questa vecchia concezione di accademia astratta, teorica, professionale. In secondo luogo si deve riconoscere che nella maggior parte dei casi l'apprendimento viene in gruppi e che la collaborazione ha a che fare con la crescita. Se isoliamo gli individui separandoli e giudicandoli separatamente formiamo una sorta di disgiunzione tra di loro e il loro ambiente di apprendimento naturale. E in terzo luogo è cruciale nella cultura delle nostre istituzioni, l'ambiente delle istituzioni e gli spazi che vengono occupati.